Avete letteralmente adorato il video dei passaggi segreti quindi abbiamo deciso di farvi subito un video dove io e Fere ci sfidiamo a chi fa i passaggi segreti migliori Come funzionerà la sfida Fere? Avremo 6 minuti entrambi per costruire una casetta piena di passaggi segreti dove alla fine di questa casetta avremo messo il nostro blocco di lana Quando finiremo di costruire la persona che riuscirà a prendere il blocco di lana al Rui il più in fretta possibile vincerà la sfida È molto semplice no? Dalla nostra parte però abbiamo la possibilità di creare dei passaggi segreti degli indovinelli dei misteri delle cose intricate davvero fantastiche Perché la scorsa volta non abbiamo neanche utilizzato tutto quindi potremmo essere davvero cattivi l'un l'altro e secondo me sarà una bella tortura Allora ti lascio un pochino di tempo per prenderti tutto e studiarti un minimo l'inventario e dopodiché si parte a costruire Sto vedendo che infatti siamo strapieni di roba Ah ah oh yes oh yes Allora io mi prendo tutti gli utensili soprattutto questi che li utilizziamo subito Poi voglio usare questo con questo con questo e questo Ok Io credo di essere pronto per la mia prima fase poi ovviamente dovrò fissondare alla cesta perché c'è davvero troppa roba Quindi devo fissofare avanti e indietro per forza infatti la casetta la farò covicino Ma le torci lever funzionano come leve normali? Cosa sono le torci lever? Sono tu la vedi come una torcia classica però se fai tosso destro Ok ok L'ho pure fatta a vedere a scorsa Ho detto ah fantastica Ma dove abbiamo leve normali? Eh leve normali? Eh sì No Puoi usare una leva che Magari ti nascondeva una leva normale da qualche parte E metti un blocco che in realtà è una leva e piazzo quello E uso quello capito? È la stessa cosa alla fine Così è ancora più complicato Eh va bene Ok Pranta? C? Sì 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 Ok Allora Non è convinta Vai lontanissima tu? Va bene No qui dietro la cesta Dietro la cesta Sono qui dietro Allora Consolini La mia casa parte così E secondo me potrebbe distruggere ogni speranza di fare Guardate questa è una cosa geniale Che solo Stef può pensare Questa è la casa E voi dite Stef ma che cavolo stai facendo? E voi fate bene a pensarlo perché effettivamente non lo so neanche io cosa sto facendo Però è un tentativo Va bene Stef Va bene sì È una scommessa questa Ti abbiamo capito tutti Non ti preoccupare Stef Tutto a posto Tutto a posto Io sarei preoccupato Però non ho avviato il timer Ma vabbè Vabbè conta qualcosina Dai tanto Cioè siamo uguali tutti e due Dimentico sempre Va bene tutto Ok Ok Ecco qua che devo sbagliare Dove piazzarlo Perfetto Ok E Consolini qua avranno ancora un punto interrogativo Abnorme Però fra poco vi passa Tranquilli perché capirete che cosa geniale si è pensato a Stef E li direte Stef oh mio Dio Sei un genio E io dirò Sì grazie Gentilissimi Non rispondere Stef Perché nessuno te lo sta dicendo Quindi per favore Grazie Consolini Ah mi serve del vetro vero E vabbè ma quante volte devo misclicare Ok Praticamente noi andiamo a fare questa tantica qua Per cui noi facciamo così Ok Ok Ma Dimmi C'è qualcosa che non mi torna Ok Aspetta Allora in pratica Ok No aspetta ci sono arrivata Ok Si sta auto intrippando No perché non ho mai usato i blocchi di questa mod E ho notato che mi pare che prende il colore La forma Quello che è del blocco che sta sotto Non del blocco che sta a fianco Boh Mi lasci Ho il dubbio anche io Sì sì Il blocco che sta sotto Ok 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 A posto Ok Perfetto Allora qua Tutto a posto Non ti preoccupare È tutto sotto controllo Anche io non è che sto andando proprio Nella mia base Benissimo Allora poi volevo fare Ma come torno Raga Ho sbagliato Comunque vabbè Avete capito tutti la mia tecnica E secondo me Ok Oh no Eh vabbè Ok mi piace sta roba Mi piace Non so se funzionerà Questi sono gli imprevisti della vanilla Non so se funzionerà Ma spero di sì Ok Faccio un test Ti posso metter questo qua Ok 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 Sì funziona 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 Tutto bene Sì Perfetto No perché ci manca solo che faccio Che faccio qualcosa senza Aspetta mi sto già perdendo Mi sono dimenticata dove ho nascosto le cose Ecco qua Ma non è possibile Ci sono ci sono Tutto a posto Tutto a posto Ok io ho dimenticato una cosa fondamentale Sto facendo un sacco di fail E sono passati già due minuti Quindi ne abbiamo soltanto altri quattro Ok una volta che entriamo qui dentro Ah ah sì Descrivi meglio così Steph sta già Zitta 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 Eh io sto zitta lo so Allora Ok L'ho fatto troppo Quindi noi torniamo di nuovo sotto E a questo punto Praticamente Noi cosa facciamo Facciamo così In questo modo Eh Ok Mi servono costantemente nuovi materiali Opla Opla Quindi facciamo così E facciamo così Ok mi servono queste E funziona Vediamo Che spettacolo Che spettacolo Che spettacolo Il primo punto è già difficilissimo Ok Dopodiché Qua chiudiamo Perché non vorrei mettere ancora più casino per fare A questo punto Noi potremmo fare Che Tipo Buchiamo qua Sarà difficile fare in tempo Eh Molto difficile Steph Molto Assolutamente sì Che succede? Ok A parte che mi hai messo un deja vu Che non ho idea No il fatto è che Steph Io volevo costruire sotto a casa mia Ma mi sono resa conto Che c'è una caverna Anche da me Cioè ho scavato un attimo E ora sono piena Che faccio? Eh Sono nel tuo stesso problema Ferre Io ho un po' tappato la mia caverna Nel minimo indispensabile Sì ma non riesco neanche a risalire C'è un disastro Vabbè ci provo Ripeto Ho avuto praticamente tutte le tue stesse difficoltà da due ore Facciamo così Purtroppo ti capisco fin troppo bene Allora A questo punto Noi ci prendiamo anche questo Più o meno 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 Inizio ad essere un po' preoccupato Perché Sotto c'è un buio Ferre Non ti voglio mettere ansia Ma mancano due minuti Ok No non ce la farò mai allora Anche io eh Cioè sono messa malissimo Anche io Perché devo tappare la caverna Io avevo inventato un'altra cosa Ma devo capire cambiare tutto Secondo me ci vuole più tempo No 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 Sì sì No 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 Fa parte della sfida Tu puoi fare anche solo due passaggi segreti Tanto sarà la sfida Chi ci mette di più Tra me e te Non è che Che c'è una sfida contro qualcun altro Ok Quindi qua E poi chiudiamo Tipo A questo punto Questa parte Io penso Che se noi facessimo Ok Così 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 E così Si noterebbe Però se noi tipo adesso qua facessimo Non lo so Non lo so 4 minuti e 40 Ok È impossibile sta roba È impossibile Ma le torce Quelle finte Eh Fanno luce Sì Sì Altrimenti si nota che sono finte È ovvio Ma le sfrutto no Ma le sfrutto Ok allora A me serve Questa finto Con poi Tipo Facciamo magari questo Questo E poi Adesso prendo già Anche questo Da poter piazzare Hai un minuto No 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 Non ho neanche finito Stef Poi devo tornare su A prendere cose Infatti io a sto punto Ho preso tutto quello che mi mancava E sto facendo Non posso farcela Raga perché Mi stavo confondendo da solo No dai però non mi puoi far questo Perché mi fai questo Mi stavo confondendo da solo Non è possibile Allora Cioè guardate che Questo è uno spettacolo Questo è uno spettacolo È davvero davvero bellissimo Un problemino Vediamo se così fa No Ok Prattica quando metto una cosa Mi cambia i blocchi Circostanti Non dovresti cambiarmeli no E invece me li cambia Aspetta Ok questo è così Quindi poi si scende Allora Devo prendere gli altri blocchi Mi servirà qualche minutino in più però Stef Non mi momento Molto poco in più Ti odio però Ah Mo che faccio Mo che faccio Ok voi praticamente Doveste prendere questo Mettere Questo qua Ok Prendo anche questo Eh no Così non funziona Potremmo però provare a fare così Ok Questa è una bella cosa Non mi sta funzionando raga Qua Cioè è questa no Tipo Ok Ok Ah È un po' indeciso Non sta funzionando molto bene dalle mie parti Sappi Mi dispiace Anche a me tantissimo È così È così E con poi qua un blocco normale Perché prima funzionava Dannazione Perché prima funzionava Mi dispiace Stef Non so che Mi manca l'ultima cosa Capisci? Mi manca l'ultima cosa Qui Perché noi poi qua metteremo questo E abbiamo finito Potrei magari andare a prendere Ah sì Vabbè io mi autoconfondo Questa roba è davvero grave Ok Dicevo Potremmo andare a prendere Quest'ultima cosa Io spero che tu stia finendo Sì Ah proprio Lo volevo fare un po' più elaborato Cioè la cosa brutta è quella La capisci Cioè essere messi alle strette È anche per quello Capito Perché il build Se vuoi poi magari Se con suini piace un botto Nel caso un botto di likes Sondaggio eccetera eccetera Facciamo la sfida Dove l'abbiamo già costruito E il video è tutto sul risolvere Quello dell'altro Perché magari sarà molto più elaborato E fa impazzire Ci sta Sarebbe carino anche in quel modo Sì 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 Aspetta Ho quasi finito Mi sa Facciamo così E mi arrangio come posso Ok Allora io mi son preso queste Perfetto Quindi io adesso torno qua No 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 Che mi hai fatto Torno qui Questo non me lo dovevi fare Raga È un delirio Mi sto auto intrippando Il problema è quello Il problema è quello Che mi auto intrippo Quindi Perché non ti apri Perché Ah perché questo Ok Fail Allora Facciamo così Così Noi mettiamo questo qua Penso di aver perso qualcosa No invece no Ok No mettimi Noi mettiamo questo qui Ma perché non posso Mettiamo questa qui Ed è ggwp L'abbiamo fatto Però a questo punto Questa non serve più a nulla E vabbè dai Ci sta Ok Ok Oddio non so più come tornare qua Ok posto Perfetto Ma io penso di Oddio mi sono persa Non è più Mi si usciva Ok Ok Vabbè È abbastanza Semplice Cioè non ho sfruttato Tutte le tecnologie Che volevo sfruttare Però lo lascio così Ok Stiamo utilizzando Anche fin troppo tempo Quindi io lo mollo così Se io prendo questa E la piazzo E poi lo faccio Funziona Quindi secondo me È lecito Che io questa Invece che tenerla Già piazzata Faccio così Io ho finito Ma hai messo il tuo blocco Di lana Certo Ok Certo Allora non venire sopra A vedere cosa sto facendo Aspetta che rimetto Tutte queste cose Nella cesta Mi tengo un po' di utensili Che possono essere utili Ok Anche perché io probabilmente Alla fine ci abbiamo messo nove minuti Abbiamo sgarrato di due minuti e mezzo Dico Steph Io probabilmente Non ti saprò portare Al mio blocco Te lo dico Totalmente Non saprò Sì Però aspetta Hai messo le fence Ma hai fatto qualche passaggio segreto Con le fence Non lo so Sì Allora Le voglio anch'io Fere no Fere è finito Fere non puoi mettere Neanche un blocco Altrimenti hai perso Fere Dai Le volevo anch'io Fere non mi rompere le scatole Faccio partire il tempo Devi inizi tu O inizio io Dai inizio io Ok Allora Questa è la mia casa Via Allora qui si apre Ok Cercando di capire Dove si può passare attraverso Non succede nulla Lo so Perché quello serve solo a distrarre Quindi è un passaggio sotterraneo Ok Eccolo 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 qua Ok A posto Perfetto Oddio Ok Ok Devo pur sempre guardarti Nel mentre Allora Non mi sembra che succeda nulla Io penso di aver Premuto Praticamente Ma no che non ci sia Che cosa? Qualche pressure Che mi fa finire da qualche altra parte No no Ok 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 E quindi cos'altro può essere? La torcia non mi dice nulla Qualche ghost block Cioè qualcosa in cui si passa Eccolo qua Ok Ok Adesso viene il difficilissimo Ok Ah È odioso Un minuto e passa eh Sì 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 Non stai andando male Non stai andando male No infatti Cioè mi sembra Porca miseria Porca miseria Allora qui si torna indietro Sì 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 esatto Dove sto io Si torna indietro Quindi è tutto lì In questo corridoio Stretto 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 C'è la fine Ed è il punto più geniale di Steph Non riesco a capire Cosa puoi aver utilizzato Devi respirare Devi star calma Perché altrimenti è la fine Voglio pensare alle cose che c'erano Ho anche rimesso tutto nella chest Quindi manca dire che mi posso riguardare i blocchi Ok Allora si parte da un tasto destro Da qualche parte Dopodiché Come il soffitto Dovrei cercare di capire Io do solo i consigli al tasto destro Vediamo Quando troverai Aspetta Ok Ok Ma dove me la metto Steph in testa Devi capire Ok A casaccio Stop Stop Ah l'ho trovato Era questo il bloc Sì Però Steph mi sento un po' più Un po' in colpa Cioè penso che mi sia molto più difficile Ah sì Anche se non trovare l'ingresso Io ho avuto difficoltà da sola A ritrovare l'ingresso di casa mia Quindi Va bene Ok Ok Se me lo dici così Tu impegni Ti fai le cose bene Ok Allora andiamo al mio Ma questo è un ragno Sì ma che c'entra Che vuoi dar ragno Non lo so è arrivato qua Ok Allora Quindi avvio Sì Ok partito Ok non ci sono ghost block C'è del vetro Ok Va bene Steph Non panicare Complimenti Allora ti dico Anch'io Steph Dai perché tu me l'hai dato come indizio Ok Allora si entra da quella casa Ma per trovare l'ingresso Diciamo che è messa un po' lì per distrarre Ok Quindi devi anche guardarti attorno Non è uno spazio molto grande Quindi non è al di fuori di questo spazio Ok Di questo spazio che tu vedi di terra What Ma Fer Io ti aiuterei anche ma non mi ricordo dove è Aspetta Ok l'ho trovato Trovato È qui in giro Allora quindi c'è una fake door Nascosta Più o meno Più o meno Non te lo posso dire perché sennò capisci già Capito Ok Allora Torci liver Adesso devi capire dove è la porta Ok Sì sì no problema No problema Ma aspetta si spacca Ah vabbè aspetta Aspettati No vabbè ne ho 64 Tranquilla No perché ce li avevo anch'io Ce li avevo anch'io Ok Perfetto Sono a un minuto e trenta A questo punto Ghost block Non mi sembra Passaggio segreto Aspetta che scendo anch'io Che non mi ricordo più cosa ho fatto Perché Cioè Penso poi che mi sia uscito un mezzo labirinto Ma va bene Ok Questa è la caverna che ho dovuto tappare Te la presento Perché è stato abbastanza complicato Sì ma sono adesso a due minuti Ma Ok Passaggio segreto Cioè raga ma come ha fatto Passaggio segreto Passaggio segreto Devi scoprire qual è quello vero Perché alcuni sono falsi Pure Ma che sarebbe Non ci puoi aver messo nove minuti Dai No mi trolla questa Mi trolla Cioè Aspetta non mi ricordo più neanche io dov'è Sicuramente Però Ho fatto proprio Dei passaggi segreti Tra questi cunicoli che sono falsi Cioè non ti portano da nessuna parte Quindi qui poi devi trovare Quello che ti porta al Al blocco Buona fortuna Non ne trovo altri Ma sono tutti con ghost block O ci sono anche altri tipi No 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 Cioè Dove sta il blocco Sì è un altro tipo L'ultimo Ok Però adesso non trovi altro Di strano Ok Eh allora Eh cioè Non è qua Cercano di ricordarmi Anch'io dov'è Ok me lo sono appena ricordato Ok Bene Bene Dai Steph Ci sei quasi Non è grande come labirinto Su Non l'ho mai trovato Altri ghost block Se non questo È in questa zona Capito Ah Uno di questi Di questi Forse mi sono spiegata male Uno di questi cunicoli Da labirinto È messo lì per distrarti Però capito È in una di queste zone Ok Ah Quindi Sono Già nel posto Giusto Conto ci hai messo? 3.30 Mi hai battuto di un minuto e trenta Era complicato Come torno a casa? Non lo so Steph Non me lo chiedere Aspetta Anch'io ho difficoltà Da qui secondo me Da qui Vabbè raga Abbiamo capito Che se là Raga Non metto Toglieti like Consolini toglieti like adesso Perché se mi devo Fare fare una sfida Dove lei lo preparo pure prima In un'ora Io mi faccio 40 minuti Solo a trovare la soluzione Quindi Toglieti like adesso Risparmiate Steph Non voglio fare più la sfida Penso voglio essere anche bravo In sta roba Non sono bravo Come sempre Comunque divertente cercare Vero? No Dai sì che lo è Non mi sono divertito Io te l'ho detto Cioè ho dovuto anche Tagliare delle idee Perché a un certo punto Era troppo Ci fermiamo E qua sotto ci sono altri video Io smetto di parlare Non fate altre sfide Quindi togliete tutti i likes Di questo video Andate lì sotto A vedervi altri video Che sicuramente Sono più belli di questo Perché questo qua È davvero brutto E ci fermiamo Così